Ehi, abbiamo trovato Mercer. O almeno le auto. Incontriamoci, così ti aggiorno. C'è mancato poco. Abbiamo seminato gli sbirri. Tutto ok? Libero. Andiamo. I camion che stavamo cercando. Ne hanno visto uno dirigersi al porto. Mercer vorrà spedire le auto fuori dalla città. Allora, qual è il piano? Niente polizia. I tirapiedi di Mercer sono ovunque. Ci dovrà pure essere qualche poliziotto onesto in questa città. Dopo quello che abbiamo passato, scommetto che ce ne sono pochissimi. Non ce ne servono molti. Dobbiamo solo trovare il modo di distinguere i buoni dai cattivi. Il modo migliore per farlo è radunarli tutti. Dici sul serio? Vuoi diventare una leggenda? Ok, principiante. Tocca a te. Sto mandando un messaggio alle crew, alla League, a tutti. Ovunque siano, scateneranno l'inferno, attirando più sbirri possibile a Port Murphy. Invece noi? Noi andiamo a Edenshawes. Abbiamo il nostro macello da scatenare. Ehi, penso sia arrivato il momento di rimettermi al volante. Come i macchinano di certo. Beh, grazie tante. Fratello, sei troppo arrugginito. Conosci la memoria muscolare? Mi sa che soffri di amnesia. Ehi, Anna può venire con me. Ok. Miglior notizia della serata? La prossima a destra. Siamo qui. Ehi, sicuramente c'è una centrale di polizia. Se vogliamo tirare, vi facci la prima. E così non potranno ignorarci. Scateniamo un po' di caos. Qualcuno può confermare la presenza di venture in corsa a Edenshawes? Volete una conferma? Ascoltate! Merda. Ok, invio unità. Avete sentito? Stanno arrivando. Ok, Rivera. Qui potremmo divertirci sul serio. Quegli strozzi stanno scommando fuori dalla centrale. Ci avviciniamo. Tagliamogli la strada. È fatta. Hanno avvocato. Ora portiamoli dove vogliamo noi. Se questi poliziotti mi graffiano l'auto, faccio casa al distretto. Bersagli diretti a sud. Siamo all'inseguimento. Non c'è bisogno di nasconderci. Non c'è bisogno di nasconderci. Centrale, servono più unità. Ci segnalano diversi incidenti a Rockville, Edgewoods e Dino Regis. Praticamente dappertutto. Avete sentito? Sta funzionando. Sta per me il finale. Oh, arrivano i dipendenti statali. Sono all'inseguimento di una... Ehi, Manti. Voglio chiedertelo da tanto. Com'era la prigione? È un po' che non sono più dentro. E non ho intenzione di tornarci. Mi dispiace davvero, davvero tanto. Ti perdono. Per ora. Sistemati. La tua amica poliziotta potrebbe rimuovere i posti di blocco per noi. Non penso di piacerle molto dopo che non le ho dato il portatile. Ehi, l'abbiamo restituito, no? Ok, che mica è migliore. Non lascio l'auto a un poliziotto. Direi nel massimo, si parte. Il primo colpo è mio. Ehi, Alfa, potete darmi un aggiornamento sul veicolo in fuga? Il sospetto ha un attivamento in posizione 4. Ho notizia di un inseguimento nella vostra zona. Potete unirvi al divertimento. Dobbiamo passare al comando. Ci avviciniamo alla zona di lancio. Ho sempre voluto sfrezzare in questo posto. In questo momento non ti riconosco. Sospetti segnalanti alla base di lancio. Fermiamo questo casino. Chi vuol vedere il razzo da vicino? Mi piaci, Rivera. Spero solo che quel coso non decolli. Merda! Mando altre pattuglie. Date una lezione a quei tempi. La gita è finita, è ora di filarsela. Ditegli di muoversi. Buone notizie. I sospetti lasciano la zona di lancio. Uscita ovest. 7-10, pronti a neutralizzare. Ana, se mandano altri piedi piatti, non ce la faremo. Ci siamo quasi. Nessuno può toccarci. Rai, l'ho chiamato in aiuto. Servono agenti e anche cavalli. Nel caso di potenza. Altre pattuglie dirette alla vostra posizione. Corsa finita. Anni auto è andata. Radies. Sarebbe meglio per tutti se catturassero i criminali veri. Ci sono fin troppi spiri in questo inseguimento, ma andiamoli a cagare. Centrale, abbiamo perso quei piloti al porto, ma c'è dell'altro. Lasciateli perdere. Questa è grossa. Inviate unità alla mia posizione. Roger. Bella merda. L'inseguimento finisce qui. Passiamo al canale riservato. Abbiamo saputo del carico. Siamo bella. Stardi ci hanno portati qui a proposito. Ci hanno pagato. Merda. Ci direi. Stiamo arrivando dove hanno visto i cani. Ci siamo. Fate attenzione. Le auto non hanno via di fuga. è fatta. E che cavolo ci siamo imbattuti? Non va bene. Abbiamo preso della trasforza in fuga. C'è che il tenente Mercer è ancora sul posto. Dove? Dove? Sì, Spirri, non lo prenderanno con quella carretta? Forse no. Ma noi sì. Vai. Dovevo saperlo che c'entravate voi due idioti. Volevamo salutarti prima che partissi. Vi avverto, lasciate perdere. Non penso proprio, tenente. Abbiamo le auto. Ora prenderemo anche te. Credi di fermarlo? Agente Torres, il piano è quello. Hai opizioni? Ascoltami. Quel tipo è pericoloso. Quindi se lo batti, staglia alla larga. Lascialo a me. Dobbiamo impegnarci di più per fermarlo. Siete dei duri dietro quel volante, eh? Anna. Prima che tu lo dica, no. Non smetteremo di insieme. Lo so. Solo... Fai attenzione. Forza, finiscelo! Andiamo. Forza, dai! Appena in tempo. Devo andarmene, alla svelta. Tu? Torres! Eva! Se mi arrestano, le cose si mettono male. Per entrambi. È vero. Oggi la polizia ha concluso le ricerche dell'ex capo della task force stradale, Frank Mercer. Secondo una dichiarazione, anche se non è stato recuperato il corpo, l'ex ufficiale sarebbe deceduto. Da più di una settimana, il tenente, sospeso con disonore, tentava di sfuggire alla polizia dopo aver sottratto dei veicoli ad alte prestazioni. E forse ci sarebbe riuscito se non fosse stato per le azioni di un noto, ma per ora anonimo, pilota clandestino che ha permesso di recuperare le auto. Secondo un'indagine successiva, i mezzi sarebbero stati sequestrati illegalmente in un'operazione durata diversi mesi. A seguito dello scandalo, la task force ha risposto alle preoccupazioni del pubblico e ha diffuso le seguenti dichiarazioni dopo la nomina di un nuovo responsabile. Vi ringrazio. Troppo a lungo. Frank Mercer ha usato il dipartimento per i propri fini. Ma ora non più. Ora impiegheremo di nuovo queste risorse per fermare le corse clandestine. Con Frank Mercer alla guida, questo crimine ha prosperato. Ma con me avrà fine. Questa. Mi dai questa? È un buon veicolo. Mi rifiuto di guidarla. Beh, visto come hai ridotto le altre, accontenti. Perfetta per un novellino. Io sono nella league. Se arrivo con quest'auto, mi rideranno tutti dietro. Ora sarai anche famosa. Arresti sempre la mia piccola ica. Mira, venga qua qua. No, no, no. Avanti, vieni, dai. Davvero? Sei nella league? Se arrivi su questa bellezza... Le costole! Scusami. Ehi, recuperare quelle auto da Mercer ti ha reso popolare in città. Ma... Un po' di aiuto ti servirà. Quindi ti unisci alla crew? Potrei lanciarmi di nuovo in pista. Sai, rispolverare qualche vecchia mossa. Grande! Vuotare un giro? Andiamo. Ehi, apritevi a vicenda voi due. Ora c'è gente che vuole sfidarvi da tutto lo Stato. E ce n'è sicuramente altrettanta che vorrebbe fermarvi. Non cacciatevi nei guai. Puoi contarci. Quelli della league volevano ringraziarti per averli aiutati a recuperare le auto. Sono impaziente di vedere un vero pilota al volante di quel mito intramontabile.